I numeri parlano chiaro e rivelano una realtà che va tenuta certamente sott'occhio. Occhio alla salute è infatti la ricerca che nel 2016 si è occupata di analizzare le condizioni di sovrappeso o obesità dei giovani bellunesi, ben 25 classi coinvolte, di ragazzi dai 7 ai 10 anni per un totale di 443 giovani. Abbiamo una situazione che pur migliore rispetto alla situazione del Veneto e anche di altre regioni rimane in realtà molto preoccupante. Quasi un quarto dei bambini manifesta problemi di sovrappeso e obesità. Dovete pensare che circa il 18%, il 17,5% hanno in realtà problemi di sovrappeso e un 5% ha problemi di obesità. Di questi l'1,5% ha già problemi di obesità grave. Come sappiamo la presenza di obesità e sovrappeso in questa fascia di età tende a perpetuarsi poi nell'adolescenza e nell'età adulta con tutte le conseguenze di diminuzione di salute che essa comporta. Svariate le conseguenze. A breve termine questi ragazzi tendono ad avere anche una bassa stima di se stessi, problemi anche di socializzazione. A medio termine possono avere come altri problemi l'esordio di altre malattie tipo l'ipertensione o anche il diabete. Fondamentale dunque praticare attività fisica ma l'intervento deve essere di tutta la collettività. Con un piano regionale attualmente stiamo attivando da anni delle attività all'interno delle scuole dove parliamo quindi di alimentazione corretta con un progetto che si chiama anche Corro lontano perché mangio sano in cui quindi abbiniamo il benessere psicofisico a quello che è la corretta alimentazione e l'attività motoria.